Continuano gli appuntamenti del Settembre Culturale al Castello. Ieri sera, 12 settembre, ospite il professore Stefano Zicchi, filosofo e scrittore che ha presentato il suo ultimo libro L'amore nel fuoco della guerra, un romanzo ambientato nella città d'Almata di Zara nell'autunno 1943 e conclude un ciclo narrativo che Stefano Zicchi dedica all'esodo istriano. Leggere un libro oggi fa bene, io mi auguro che il mio libro faccia bene. Ho voluto raccontare in questo libro l'amore nel fuoco della guerra, la tragedia di quel periodo all'interno di una storia d'amore, una piccola storia di piccole persone, di un grande amore ma all'interno di una grande storia tragica che è stata quella degli italiani esuli dalle terre dell'Adriatico orientale e da Zara in particolare perché questo libro è ambientato a Zara. Può dare un consiglio ai tanti genitori che oggi devono affrontare il nemico del telefonino nei confronti dei figli? Ma insomma, il telefonino diventa un nemico come ai miei tempi, lontani, il nemico era la televisione. Non si doveva guardare la televisione e ancora prima il nemico erano i fumetti. Leggere i fumetti era qualche cosa da depravati. Allora, siccome io non credo che i diavoli siano su questa terra, forse nell'aldilà, sono convinto che ogni cosa deve avere il suo giusto trattamento senza essere demonizzato. Allora, quando studiano i ragazzini, per evitare questa tentazione di andare a vedere quello che c'è, uno, il genitore, si mette in tasca il telefono e non glielo dà. Si può pensare al telefono come due cose, un fatto ricreativo, quindi quando non si studia, e un fatto di aggregazione. Per terminare, le posso chiedere un saluto a Cilento Cianne? Ma certo, io vi auguro sempre a tutti voi che lavorate su realtà locali, di essere sempre molto attivi, perché diffondete una comunicazione importante all'interno della vostra socialità. E quindi c'è la televisione importante, quella che ti dà le notizie sugli eventi internazionali e nazionali, ma non è da trascurare da un punto di vista comunicativo, quello che è nelle piccole comunità, la vita di ogni giorno. Quindi avete un compito molto interessante e importante.